Nelle fiamme della violenza, il mondo scoppiò. Chi sei? Come sei riuscito a passare? Senza il petrolio, l'uomo tornò alle sue origini primitive. È la nostra salvezza! Io vi porterò quella motrice, voi mi ridate la mia macchina e tutta la benzina che riesco a caricare. Per il ciclo oltre l'ignoto. Interceptor, il guerriero della strada. Venerdì alle 21 con Iris.